Come era da cronoprogramma rispettato, appena finita la Pasqua si instaura il cantiere di Piazzale d'Annunzio, un lavoro molto importante che andrà a cambiare radicalmente questa parte del lungomare per dare un po' quella attrattività che la equipare un po' magari anche al litorale di Ponente. L'impegno dell'amministrazione era proprio questo perché dà valore anche al tratto di Ponente di lungomare, oggi la maggior parte del passeggio sul lungomare di Pesaro si concentra dalla palle andando in direzione nord, verso Rimini e negli ultimi anni abbiamo cercato con degli interventi di allestimento leggero a rendere attrattiva anche questa parte del lungomare con il casco di Valentino, con la pista per i bambini, insomma tante iniziative per cercare di valorizzare, rendere viva, vivace anche questa parte. Questo è un primo intervento concreto, un intervento importante di 500 mila euro di impegno dell'amministrazione comunale di Pesaro che realizzerà una vera e propria piazza, una piazza, una piccola arena anche per eventi, per spettacoli, per iniziative estive ovviamente, un luogo che dà spazio alle persone. Partiamo oggi, il primo mese sarà con interventi che in qualche modo interferiranno anche con la viabilità, quindi fino almeno il 10-12 maggio ci saranno anche delle modifiche alla viabilità, poi nel mese e mezzo successivo invece gli interventi saranno più di allestimento di quello che è l'arredo urbano e quindi quella che è tutti gli effetti la piazza. La piazza dove il casco di Valentino rimarrà, rimarrà su una sorta di fontana, quindi di piscina con acqua sfioro in qualche modo che protegge anche il casco di Valentino stesso, ci saranno tante panchine, ci sarà un'illuminazione adeguata, ci sarà insomma un luogo dove potranno vivere, ci sarà più spazio per le persone, per le famiglie, per i pesaresi, per i turisti. Dovuto a realizzare adesso anche quando le condizioni meteorologiche in qualche modo facilitano questo tipo di interventi. Probabilmente nelle prime settimane calde quando i pesaresi e anche i visitatori, i turisti hanno piacere di venire a prestare la zona mare, ci sarà ancora qualche piccolo disagio dovuto al cantiera, però in prospettiva sappiamo che oggi quello che era un luogo di fatto quasi viene da dire un non luogo, un poco più di un incrocio. Nonostante gli interventi che avevamo fatto negli ultimi anni, poi a tutti gli effetti ci sarà una piazza già quest'estate, quindi era un intervento in qualche modo dove abbiamo trovato anche una disponibilità da parte delle attività, che ringrazio anche per la pazienza, per i disagi che dovranno in qualche modo sopportare questo mesetto, questo mesetto e mezzo, poi in qualche modo tutto sarà in discesa. Quindi sono contento perché è un intervento concreto, in realtà vero, importante sul lungomare, di grande impatto anche per tutta la città. Grazie. Grazie.